Sono stati anni abbastanza complicati perché io sapevo perfettamente di essere completamente strano ai fatti, però ho avuto fiducia nella giustizia e sono stato ripagato. Nessun colpevole per il crollo della diga di Montedoglio, tutti assolti. Scagionato dalle accuse il dirigente regionale Diego Zurli, già direttore dell'ente Enrico Umbrio Toscano. I fatti risalgono al 29 dicembre 2010, quando caddero alcuni conci in cemento armato. Il timore fu che il Tevere, ingrossato dalle acque della diga, potesse sommergere mezza Valtiberina. Probabilmente ci sono dei responsabili della cattiva costruzione della diga, ma non sicuramente a carico loro e soprattutto, cosa sulla quale ho battuto sempre, non c'è stato il disastro. È evidente che della soluzione ha beneficiato anche l'enterrivo. In questo processo fondamentalmente sono mancate le persone che a mio giudizio, a mio giudizio ovviamente, avrebbero potuto essere coinvolte in fase di indagine, forse anche processate. Non c'è alcun dubbio dei difetti di costruzione, perché altrimenti non si spiega perché poi un concio viene giù e tira giù gli altri. Al tempo stesso però è stata accertata di battimento che è stata sbagliata la mira. Assieme a Zurli era imputato Stefano Cola, direttore dei lavori della diga. Entrambi sono stati assolti con formula piena. Zurli perché il fatto non sussiste, Cola perché il fatto non costituisce reato. 90 giorni leggeremo questa diversità di assoluzione che il giudice ha ritenuto di decidere e poi valuteremo, comunque la soluzione è.